Piazza 20 Settembre. Il centro costiero sorto intorno alla fortezza e sui resti della romana cloana vanta il poderoso palazzo Cesarini Sforza, oggi sede civica, eretto nel 1862 su una primitiva costruzione del secolo XIV. Davanti al palazzo si apre Piazza 20 Settembre, già largo scalo, che cambiò nome nel 1891 per ricordare la presa di Porta Pia. Al termine della stessa i giardini pubblici e all'interno di questi la fontana, che in origine abbelliva la piazza principale. Sul lato destro la chiesa di San Pietro, progettata dall'architetto Giovanni Montini di Macerata, terminata nel 1853. Oltre ai giardini le palazzine del Lido Cluana, in stile Liberty, così come la pescheria da poco restaurata. Palazzo Sforza si caratterizza per la sua imponenza e per lo stile architettonico tardo neoclassico, con alternanza a motivi rinascimentali. La sua costruzione avviene nel 1862 per divenire sede comunale nel 1920, dopo aver ospitato le maestranze di un pastificio a vapore agli inizi del Novecento. L'architettura di Palazzo Sforza risponde all'eclettismo ottocentesco, essendo la rappresentazione figurativa dell'unione di stili neoclassici a quelli rinascimentali. Caratterizzazione tipica riscontrata in altre costruzioni marchigiane appartenenti alla seconda metà dell'Ottocento. Infatti, sorge sull'area della storica fortezza quattrocentesca, costruita vicino al mare interamente in mattoni. Nella nota redatta in occasione dei restauri, si fa un breve cenno alla tecnica costruttiva utilizzata per la realizzazione delle finte persiane semicircolari in cotto, consentendone una visualizzazione delle 98 semicolonnine, 9 cornucopia stampo sempre realizzate in terracotta, 11 maschere impreziosite da un cesto di fiori in capo, 10 elementi raffiguranti, un volto contornato da fogliame e, per finire, 25 capitelli che ornano il palazzo. La tecnica costruttiva di Palazzo Sforza è riassumibile nella struttura in mattoni come ossatura di una rappresentazione architettonica, che oltre ad introdurre una distinzione tra elementi strutturali e parti rappresentate, testimonia la qualità del risultato ottenuto, anche dal punto di vista della percezione e della tecnologia. In sintesi, sono osservabili due livelli di simulazione, quello del materiale e quello della struttura, attraverso il duplice modo per la messa in opera dello stesso materiale. Completato dopo dieci anni di lavori nel giugno del 1999, è stato inaugurato come sede comunale.